In questa posizione devi fare cinque passi avanti di qua, qualche passo avanti di qua, sei già in zona di prelievo. Poi naturalmente per scendere e andarlo a prendere sai che ti devi abbassare di tot. Naturalmente noi metteremo dei parametri. Come faccio io a sapere la posizione di prelievo?